Giovedì 15 novembre 2018. Mancano 46 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello scorpione. La chiesa ricorda Sant'Alberto. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Alberto, Leopoldo, Enea e Arturo. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Lagana. Dovrebbe derivare dal vocabolo greco lacanas, col significato di ortolano, e indicare quindi il mestiere del capostipite. Lagana è un cognome specifico di Reggio Calabria. La forma più diffusa è invece Laganà, di origine sempre reggina, ma con nuclei significativi anche nel resto della regione e in Sicilia. La variante Laganara è invece pugliese. Accadde oggi. Il 15 novembre del 1869 l'armatore genovese Rubattino, d'accordo con il governo italiano, acquista la baia di Assab nel corno d'Africa. È il primo possedimento coloniale italiano. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri allo stilista Roberto Cavalli, nato a Firenze il 15 novembre 1940. La citazione da ricordare. Per quanto ci si sforzi di salire in alto, non ci si potrà mai innalzare sopra se stessi. Giovanni Soriano. Dice il saggio. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché, passata l'inondazione, la pietra riappare. Proverbio cinese. Un consiglio al giorno. Avete acquistato degli avocado ma non sono maturi? Per renderli morbidi, teneteli per un paio di giorni coperti di farina bianca.